Domenica 16 giugno è un giorno triste per il calcio piacentino, il Piacenza Calcio infatti uscito sconfitto nel match di ieri sera contro il Trapani, deve dire addio alla tanto sospirata promozione in Serie B. Dopo quella di Siena l'ultima giornata di campionato, altra trasferta indigesta per i ragazzi di Mister Franzini che avevano carezzato per ben due volte il sogno di salire in cadetteria, la prossima stagione si ripartirà dunque ancora una volta dalla Serie C. Nonostante la sconfitta, commovente l'applauso dei 156 tifosi piacentini che hanno raggiunto la città siciliana per sostenere la squadra bianco-rossa. Tutti i dettagli con le interviste ai protagonisti strappate dai nostri inviati a Trapani domani nel TGL. Lasciamo i bianco-rossi e dedichiamoci a quello che è stato il Gola Gola Festival, oltre 40.000 le presenze per la chermesse enogastronomica che tornerà comunque a Piacenza il prossimo anno. L'evento ha entusiasmato non solo i piacentini e i turisti ma anche i produttori e le attività economiche locali per l'edizione 2020, sono già in programma ancora più eventi. Passiamo alla cronaca, sono malato, mi sono allontanato per questo, voglio essere lasciato in pace. Gian Paolo Bertuzzi, sparito per una settimana e ritrovato in Abruzzo, prova a chiudere così con una telefonata a libertà la vicenda che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Venerdì 31 maggio infatti ha ritirato 4.000 euro in una banca di via Colombo, spense poi il cellulare e senza dire nulla ai familiari. Dopodiché l'artigiano di settima lasciò il pick up al porto di Ancona, ritrovato il 5 giugno con le portiere aperte, una gomma bucata e un coltello insanguinato sotto il sedile posteriore e salì su un camper comprato all'insaputa di tutti per poi raggiungere un campeggio a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Proprio lì lo hanno trovato i carabinieri abruzzesi su mandato dei colleghi di Rivergaro. Un marocchino di 30 anni è stato arrestato dalla polizia alla Farnesiana dopo aver minacciato e ferito una barista. Gli agenti mentre lo portavano in questura sono stati accerchiati da parenti e amici dello straniero. Il marocchino regolare sul nostro territorio è stato identificato, si tratta di un uomo con precedenti per lesioni e contro il patrimonio, è finito in manette per lesioni e resistenza a violenza a pubblico ufficiale. La questura ha poi proceduto con la revoca del permesso di soggiorno. Hanno patteggiato 5 anni a testa i due cinesi, arrestati il 15 luglio 2018 dopo essersi schiantati a tutta velocità in via martiri della resistenza per sfuggire alla polizia, dovevano rispondere a di rapina, sequestro di persona, lesioni e resistenza nei confronti di un loro connazionale e di due agenti feriti nell'inseguimento. Uno si trova ancora in carcere, l'altro ai domiciliari in provincia di Milano. Cambiamo argomento, serve un assessorato dedicato all'industria, lo ha chiesto al sindaco di Piacenza e il presidente di Confapi Industria, Cristian Camisa, durante la quindicesima assemblea annuale che si è tenuta a Palazzo Gotico. A questo proposito il sindaco Patrizio Barbieri ha prontamente risposto al presidente di Confapi, ok a una delega specifica sull'industria, la però personalmente. Nei giorni scorsi il quarto trapianto nel giro di un mese effettuato all'ospedale di Piacenza. A un midollo è arrivato da oltreoceano per salvare un piacentino, un'equip specializzata si è occupata di ritirare la sacca all'aeroporto della Malpensa e di mantenerla protetta sino all'arrivo a Piacenza. Da lì si è messa in moto una perfetta macchina organizzativa. L'Emporio Solidale è pronto ad aprire i battenti. Inaugurazione ufficiale il 18 luglio prossimo. I piacentini hanno già donato 7 tonnellate di cibo raccolte grazie alla Caritas. Una parte è invece dedicata ai mobili che possono essere acquistati tramite un'offerta. C'è anche un laboratorio per il recupero in cui verranno impiegate persone in cerca di lavoro. L'Antonino d'Oro 2019 va a Monsignor Domenico Berni da 50 anni missionario in Peru. Nella nota del capitolo dei Canonici si legge il conferimento vuole essere un atto di stima e di gratitudine nei confronti di un figlio della nostra chiesa piacentina bobbiese che ha dedicato quasi 50 anni della sua vita alla missione in Peru. Prima come sacerdote e poi come vescovo svolgendo sempre il suo ministero con passione, umiltà e fedeltà nei confronti del popolo a lui affidato. Il premio verrà consegnato dal vescovo Gianni Ambrosio giovedì 4 luglio nella Basilica di Sant'Antonino. Paura in città per tre incendi nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo e dell'ex berzolla. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato fortunatamente il peggio con le fiamme che sono state domate in poco tempo. La polizia indaga sull'origine delle fiamme e sequestrata a questo proposito una bottiglietta con liquido infiammabile. Si pensa alla pista Dolosa. Nel 2018 sono stati 21 i morti in regione per virus trasmessi dalle zanzare. Ecco perché a breve partirà la campagna di informazione con tutti i consigli utili ai cittadini. più fondi per le disinfestazioni, a disposizione dei cittadini tutto il materiale utile e scaricabile dal sito www.zanzaratigreonline.it. La prevenzione è fondamentale, ha commentato l'assessore regionale delle politiche per la salute Sergio Venturi. Siamo allo sport, la 22esima edizione della 6 giorni delle rose di Fiorenzuola, la corsa di ciclismo su pista più famosa d'Italia, è stata vinta dal duo azzurro Plebani-Scartezzini. I due azzurri hanno concluso la gara con 101 punti, unica coppia a giri pieni. Parlando invece di rugby, i Lions dopo aver conquistato la promozione in top 12, il massimo campionato di rugby in Italia, si sono laureati anche campioni d'Italia di Serie A. Battuto Colorno al Beltrametti con il punteggio di 29 a 17, successo anche per l'Under 18, promosso nella categoria Elite. Questa è la nostra ultima notizia, in attesa delle edizioni di domani del TGL, la nostra informazione prosegue in temporale sul sito www.liberta.it. Grazie per essere stati con noi, buona domenica.